Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento di molte fedi sotto lo stesso cielo 2020, un'edizione speciale tutta in streaming promossa per il tredicesimo anno consecutivo dalle Acli di Bergamo e raccontata quest'anno dall'Eco di Bergamo. È un incontro atteso quello di stasera, il quarto dopo Filippo Grandi, Massimo Recalcati, Alessandro Baricco di una sezione importante dell'edizione 2020, la sezione delle narrazioni. Noi l'abbiamo detto, narrare significa raccontare un mondo attraverso una storia e stasera parleremo di una fede e di una cultura, quella ebraica, che ha da sempre privilegiato il racconto. Anzi, potremmo dire che il popolo ebraico è un popolo che vive di racconti, il più importante dei quali è quello di una sera speciale. Perché questa sera è diversa da tutte le altre? Perché questa sera mangiamo solo azimi? Perché erbe amare? È il più piccolo di casa che con le sue domande introduce il rito familiare della Pasqua ebraica che si compie con l'aggadà, che è appunto il racconto dell'uscita dell'Egitto degli ebrei, che Dio libera dal gioco della schiavitù. E durante il seder, durante la cena domestica, con la quale appunto si celebra la festa, l'aggadà viene letta, cantata, così che la memoria si trasmetta di generazione in generazione. La narrazione dunque, prima orale, poi scritta, è stato il mezzo per tramandare la fede e la cultura ebraica. Il Midrash, racconto per eccellenza, il Talmud, ma anche i racconti cassidici, ma anche la leggenda del Golem. Perché raccontare storie, gli ebrei lo sanno, ci salva e ci aiuta a vivere. Il valore delle narrazioni ebraiche risiede anche nella capacità di far riflettere e spesso di far sorridere, di tenere aperte le domande e far sì che una tradizione venga continuamente ridetta nell'oggi. Storie ebraiche per decifrare il mondo. È il titolo del dialogo, dell'incontro di stasera. Noi siamo felicissimi e davvero onorati di avere con noi Elena Leventa. Ben arrivata Elena. Grazie a tutti voi, grazie Daniele. Io sono felice, doppiamente felice di essere con voi a Bergamo per tante ragioni. Non ultima l'affetto che mi lega è la consuetudine degli incontri che ormai da anni facciamo insieme. Quest'anno è un po' così, è un po' particolare, ma anche per questo sono doppiamente felice di essere qui con voi. Elena Leventa ha ragione, lei è venuta più volte a molte fedi. Vedete una sera a dialogare con Massimo Ricalcati, una sera a parlare di Gerusalemme, una sera a parlare di pace e giustizia nell'ebraismo. Elena Leventa lavora sui testi della tradizione ebraica e traduce letteratura di Israele. Collabora alla stampa e tutti i libri. Insegna presso lo IUS di Pavia e scrive di saggistica e di narrativa. Ha pubblicato libri che vi consiglio, che io ho amato molto, attese, questo è del 2005, che è stato finalista al Premio Strega, ma poi Eva e le altre, vedete, letture bibliche al femminile. Conta le stelle, se puoi, magnifico, il racconto della famiglia Levi del nonno Moise, cioè quindi assolutamente. E poi un libro bellissimo, guardate questo. Elena per un anno è stata volontaria negli ospedali e quindi sarebbe un libro da leggere in tempi come questo. La vita è una prova d'orchestra, dove si confronta col tema del limite, del dolore, della malattia. Ma ha anche scritto tanto, scritto, ah, questo libro è magnifico, io che faccio appunto la guida in Israele, lo consiglio sempre, Tel Aviv, la città che non vuole invecchiare. È scritto per i cento anni di questa città che appunto è stata fondata nel 1909. E lo scorso anno, ecco, questo romanzo, Nessuno ritorna a Baghdad. E pochi giorni fa ho visto che per la nave di Teseo ha pubblicato La Carezza, una storia perfetta. Devo confessare, Elena, che questo non l'ho letto, ma lo leggerò presto. Aggiornatissimo sei. No, 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 in realtà appunto, Elena, appunto, io amo molto anche come scrive e anche gli articoli sulla stampa. Tenete conto, per tre anni, dal 2015 al 2017, Elena Leventale è stata addetta culturale presso l'ambasciata d'Italia in Israele. E dal gennaio di quest'anno, ne parlavamo prima di andare in onda, è stata nominata direttore dalla Fondazione Circolo dei Lettori di Torino. Quindi davvero ben arrivata. A te il compito di introdurre la questione. E poi Simona, che ringrazio di cuore, che qua studio con me, porrà, lancerà le due domande che un paio di giovani hanno preparato sul tema. Grazie, Elena. Bene, grazie. Fermatemi a un certo punto se perdo cognizione del tempo, cosa che ogni tanto mi capita, soprattutto quando affronto temi come questi. Grazie per questa introduzione, Daniele, perché è esattamente quello che mi serve per affrontare il tema della narrazione come modo per decifrare il mondo, della narrazione come definizione del mondo e del mondo come interrogazione. Non dimentichiamo, prima di addentrarci o provare ad addentrarci in questo tessuto biblico, partendo proprio dall'inizio, anzi da prima dell'inizio, non dimentichiamo che la professione di fede del popolo ebraico, così come sta scritta nella Bibbia, è un ascolto. La fede è voce, col, è una voce interiore, non è una voce fisica. Dio è spesso figurato anche in questi primi passi del racconto del mondo e della creazione come voce, addirittura, come vedremo fra poco, voce che passeggia. La parola voce in ebraico, cole, femminile. E questo significa che la fede è un atto d'ascolto. Shema, ascolta Israele, il Signore è il tuo Dio. Questa è la professione di fede del popolo ebraico, collettiva e individuale. Ci si pone in ascolto di Dio, del mondo e delle interrogazioni che il mondo pone. Io appunto mi soffermerò sull'inizio, sul principio di tutto, che ha secondo me tante tante cose da raccontarci, da insegnarci, ma soprattutto da farci ascoltare. E ogni ascolto implica la domanda, l'interrogazione a se stessi e al mondo che ci circonda. Incominciamo dall'inizio dell'inizio. Il testo ebraico della Bibbia comincia con, come molti di voi immagino sapranno, con una parola che suona bereshit, in principio. In principio Dio creò il cielo e la terra. Questa parola in ebraico suona appunto bereshit. La prima consonante di questa parola è una bet, una B. La domanda che si impone, che si impone all'inizio della narrazione è come mai il mondo, la creazione, comincia con una bet che è la seconda lettera dell'alfabeto, non la prima. Le risposte sono infinite, come è infinito il rifrangersi delle scintille di luce che il martello sulla pietra, che colpisce la pietra, sprigiona. La tradizione ebraica si configura anche così, come una forza che batte sulla pietra, sulla pietra della rivelazione, sulla pietra dei comandamenti e genera infinite scintille di luce che sono le mille e più interpretazioni che ogni parola, ogni lettera del testo sacro apre al confronto con la mente e con il cuore. Allora, una delle prime interpretazioni di questa anomala lettera con cui tutto si apre, che non è la prima, ma la seconda dell'alfabeto ebraico, sta nella sua forma. Ora, io non posso qui disegnarvela, però la bet è un po' come una C maiuscola capovolta verso il seguito della pagina, della riga di testo e della parola. Questo ci insegna, spiegano i rabbini, che bisogna non stare a cercare di capire quello che sta prima, quello che sta troppo su e quello che sta troppo giù. Il nostro percorso di indagine deve proseguire verso il testo e guardare avanti, un avanti che da un punto di vista della pagina ebraica è l'opposto, perché come forse sapete il testo ebraico, la scrittura ebraica va da destra a sinistra. Questo ha un'implicazione non secondaria nel nostro rapporto col testo, perché se voi siete destronsi e scrivete da destra a sinistra, avete ben fisso lo sguardo sulla parte bianca ancora da scrivere della pagina, mentre se voi scrivete da sinistra a destra, in qualche modo coprite con la vostra mano quello che è ancora da scrivere. Questa propensione e attenzione continua verso la pagina ancora da scrivere, la riga ancora bianca che hai fissa davanti agli occhi mentre leggi o scrivi un testo ebraico, ci dà la misura di come questo spazio bianco della lettura, dell'ascolto, della narrazione sia fondamentale per capire e per creare, sia il mondo sia il testo. Naturalmente, interpretazioni del perché la creazione cominci con una, e la narrazione della creazione cominci con una bet e non con una na, Aleph, ce ne sono tante altre, ve ne cito una brevissima che dice che siccome i numeri e le lettere nell'alfabeto ebraico sono anche numeri, il fatto che teoricamente il testo sacro cominci con un 2, perché la bet significa 2, ci sta a dire che per quanto studieremo nella nostra vita non saremo ancora neanche arrivati a pagina 1, perché la pagina 1 è assente. Ma c'è anche un aspetto, come dire, di negazione. Come mai non comincia con una Aleph? Ebbene, io credo che sondando il testo si trovino tante risposte ancora da dire, da spiegare. Io proverò a suggerirvene una un po' più avanti in questo racconto. Ma ce n'è una fondamentale, perché la Aleph, la A, quella che normalmente si rende come A, in realtà è una consonante davvero sui generis, perché è una consonante che non ha suono. La Aleph è di fatto il gesto della bocca, dello spirito, che si apre prima della parola, è qualcosa che viene prima del detto, è qualcosa che assomiglia più da vicino di qualunque altro suono o non suono al respiro. Ed è perché la creazione non cominci con una Aleph, ma con una Beth, troviamo forse risposta poco più avanti nel testo, ma anche in qualcosa d'altro che sta molto più avanti nel testo. Noi dobbiamo arrivare a Esodo 20,2 e qui siamo al decalogo. Allora, bene, sì, il decalogo comincia con un Aleph e con un Aleph molto particolare, che poi vedremo. Ma, e quindi questa sostituzione, questa assenza dell'Aleph all'inizio, ma la presenza dell'Abet, ci dice in fondo che il testo comincia con la creazione, la narrazione del mondo comincia con la creazione, ma il cuore di questa creazione sta là dove tutto comincia con un Aleph, e cioè io sono il Signore, tuo Dio, l'inizio del decalogo. Ulteriore paradosso, il decalogo ebraico comincia non con un comandamento, ma con una dichiarazione di identità. Io sono il Signore, tuo Dio. Vedremo fra poco come questa Aleph senza suono ma di peso occupi una parte importante anche del racconto delle origini, ma cerchiamo di vedere come procede questa creazione che la Bibbia esprime con la sua solita essenzialità, pregnante, piena di spazi bianchi, di cose che sono dette ma che soprattutto lasciano spazio al non detto, e cerchiamo di interpretarla restando il più vicino possibile a questo testo. La creazione inizia e prosegue per distinzioni, per separazioni. Non sappiamo e forse non vogliamo nemmeno sapere che cosa c'era o cosa non c'era prima di quel Bereshit con cui tutto comincia. La mistica ebraica racconta questo prima con un'immagine bellissima, difficile da semplificare, ma proverò. Il mondo è il frutto di una contrazione di Dio. Quando non c'era ancora il mondo, Dio era il mondo. Per crearlo ha dovuto, come dire, provocare in se stesso uno spasmo di ritiro e dare spazio al mondo. Molti cabalisti interpretano quel Bereshit come il gesto di Dio che si ritira, non è più il tutto e dà spazio al mondo. E in questo dare spazio al mondo, siccome Dio è bene assoluto, in qualche modo, geneticamente vorrei dire, ma intrinsecamente, dà spazio al mondo ma crea anche l'assenza del bene assoluto e quindi il male. Ma questo è un altro discorso e se proseguissimo su questo filo del discorso, appunto, andremo avanti probabilmente all'infinito. Però vediamo come si configura questa creazione, così come il testo la racconta. E come dicevo, procede per distinzioni, per binomi. Il cielo e la terra, le acque di sopra, dalle acque di sotto. Non dimentichiamo che in ebraico sia acqua sia cielo sono parole duali. Distingue il buio dalla luce, il giorno dalla notte. Queste sono le prime opere, come se mettesse ordine in questo nulla che è ancora da farsi. E poi la creazione procede al collettivo per grandi quantità. Le piante, gli animali, quelli che stanno nell'acqua, quelli che stanno nell'aria, quelli che stanno nella terra. È tutto un insieme che nasce al collettivo in grandi numeri, ma è, io credo, anche uno strabiliante racconto di quella biodiversità di cui si parla molto oggi. La biodiversità sta in questo collettivo, in questa quasi bulimia nel riempire il creato di cose diverse, tutte al plurale. Il creato è plurale. E vi ricordo che c'è una benedizione fondamentale che gli ebrei recitano, che è quella che si dice, si pronuncia di fronte a qualcosa di strano, di strabiliante, che esce dalla normalità. Proprio perché il pluralismo di questo creato è sentito come una benedizione, come un dettato divino, e non come una riduzione. Non c'è l'ambizione a creare un mondo tutto uguale a se stesso. Anzi, questo primo universo, dove ancora l'uomo non c'è, è profondamente biodiverso, profondamente vario. Qual è il metodo della creazione, così come viene raccontato in queste prime pagine, in queste prime righe, non pagine? È la parola. Tutto si fa con la parola. Dio dice le cose e le cose ci sono e Dio vede che sono buone. Quindi i sensi, se vogliamo chiamarli così, che danno la sostanza alla materia, alla vita, sono la parola, la parola di Dio, la voce di Dio e l'occhio di Dio che vede queste cose e le considera e le definisce buone. Tutto avviene con la parola. Tutto? No, c'è un'eccezione, un'eccezione molto particolare. L'uomo è creato in un modo diverso. L'uomo è un'anomalia del mondo, ma anomalia non vuol dire una diminuzione, è qualcosa di diverso da tutto il resto. Prima di tutto, perché la narrazione della creazione dell'uomo compare due volte nel testo. La prima, siamo al capitolo 1 della Genesi, i versetti sono 26 e 27. E qui la creazione è lapidaria, nel senso che qui Dio dice facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Quando vi ho detto che Dio, che l'uomo è creato non con la parola, ma in un altro modo, mi riferivo al seguito di questa storia. l'uomo è creato sotto due aspetti. Il primo è quello di dominare le creature già create, cioè sui pesci del mare, sui volatili del cielo, sugli animali domestici. mentre preparavo queste note sgarruppate, perché veramente sto procedendo in modo molto confuso, direi quasi rabbinico, ecco, si parla lì. riguardavo questo verbo molto poco comune, che definisce la dominazione dell'uomo sulle creature, che è un verbo strano, perché di fatto la stessa radice indica scendere. Quindi è una forma di dominazione, se non altro, da un punto di vista strettamente lessicale, che io come traduttrice, perché questo è il mio mestiere principale, trovo un po' ambigua. Quindi questa dominazione dell'uomo è sentita in fondo anche come una calata dell'uomo nella biodiversità, nel creato. In questa versione l'uomo è creato contestualmente maschio e femmina, come è un versetto molto famoso, maschio e femmina lo creo, questo è ripetuto. Dobbiamo immaginarci quindi una sorta di essere bifronte, con un volto femminile, uno maschile, e quando mi chiedono qual è la versione della creazione che ti piace di più, e me lo chiedono da una prospettiva mia femminile, la logica vorrebbe dire, vorrebbe imporre una risposta decisa, immediata, ed è certo questa versione del racconto della creazione dell'uomo è più femminista rispetto alla successiva, che come immagino tutti sappiate, prevede una priorità, e il fatto che la donna sia l'estrazione di un pezzo dell'uomo. Io considero molto più paritaria in realtà la successiva. Qui mi pare che ci siano un volto femminile, uno maschile della creatura uomo, che è come se guardassero l'uno all'opposto dell'altro, è come se quasi, io me l'immagino, quasi non riescono a vedersi uno di fronte all'altro, ad essere davvero insieme. Vedremo come, infatti dopo il secondo racconto, in fondo chiama un po' questa strana condizione di una creatura a bifronte, che è come se fosse una coppia di gemelli siamesi quasi, che sono vicini ma in qualche modo non riescono a comunicare. A me personalmente piace di più la seconda versione della creazione dell'uomo, che troviamo al capitolo successivo, siamo dal versetto 7 in poi. Qui è veramente narrazione, qui è un racconto avvincente, con dei momenti di sospensione, altri più concitati, anche se siamo in un contesto di poche parole, poche righe di testo. Eppure è veramente una narrazione avvincente. Per tanti motivi. Il primo è che Adamo, il primo uomo è il frutto di un bisogno. Dio vede che ci sono gli animali sulla terra, ma non c'è ancora la pioggia, e è in l'uomo. L'uomo non c'è. E non a caso questo Ein, questa particella per la negazione in ebraico, comincia con Aleph, e anche qui non possiamo non ricollegarci a questa Aleph che manca all'inizio, ma qui c'è. L'uomo non c'è, in ebraico è Ein, lui non c'è. E quindi la creazione dell'uomo è il segno di una mancanza, di un bisogno. E questo bisogno è quello di essere al servizio della terra. Non dimentichiamo che uomo in ebraico si dice Adam, e Adam altro non è che il maschile di Adama, che vuol dire terra. C'è una connessione intima, che non è naturalmente solo lessicale, fra l'uomo e la terra. La terra che c'è prima di lui, ha bisogno dell'uomo, cioè del suo maschile. E quindi Adamo è frutto di un bisogno, ed è frutto di una mancanza, di un'assenza. Vedremo che fra poco anche Eva, in questa narrazione, è il frutto di una mancanza. E in questa necessità l'uno dell'altra, secondo me sta il vero senso dell'essere maschio e femmina e dell'essere insieme. Adamo ha un altro aspetto fondamentale che lo differenzia dalle altre creature, anzi sono due fondamentalmente. Il primo è che Adamo, l'uomo, è l'unica cosa creata al singolare. Prima c'erano i duali, poi ci sono i plurali, i duali sono il cielo, la terra, la luce e il buio, le acque, le acque di sopra dalle acque di sotto, poi arrivano i collettivi, cioè tutto ciò che popola la terra della sua biodiversità, e poi arriva il singolare. A creare il singolare come genere e come identità è l'uomo, che è solo, viene creato in un unico esemplare. La tradizione ebraica ci dice che il fatto che l'uomo, l'umanità abbia tutta la stessa ascendenza, un unico padre, un'unica madre, ci deve invitare a sentirci tutti pari, non uguali, ma pari. Perché dico non uguali? Perché l'altra grande lezione che la tradizione ebraica ci offre su questa creazione al singolare è la considerazione che questa creazione è il più grande miracolo di Dio, e cioè da un unico stampino, o meglio due, cioè l'uomo e la donna, ma sostanzialmente uno, che è l'uomo, l'Adam, Dio è riuscito finora a non fare ancora due individui perfettamente uguali. E questa è sentita come una grandissima benedizione. La varietà del creato, sia nei suoi collettivi, sia in quest'uomo, che è uno solo, ma che genera l'infinità delle identità, è sentita come un grande, come il più grande miracolo di Dio. In fondo la biologia ci dice la stessa cosa, qual è la cifra della vita, è la biodiversità, cioè il fatto che ogni individuo vivente è diverso da tutti gli altri, anche di quelli della sua stessa specie. E questa è una lezione che prima della scienza la tradizione ebraica considera come una grande benedizione. Ma naturalmente c'è l'altro aspetto fondamentale, è noto a tutti, di questa creazione così anomala rispetto al resto, quindi partiamo dal duale, passiamo al collettivo, e arriviamo al singolare di Adamo, ma il singolare di Adamo sta anche nel fatto che Adamo è l'unica creatura che perlomeno in questa versione della sua creazione non è fatta con la parola. Adamo è l'unico essere che viene costruito con della materia preesistente. questa materia preesistente è lo spirito, lo spirito di vita che Dio insuffla nelle narici, ma prima ancora è la terra, questa terra che qui non è Adamà, ma è esser, cioè polvere che viene foggiata da Dio. Questo è fondamentale. Possiamo anche dire che Adamo è l'unico essere di seconda mano, è l'essere più terrestre, più materiale che la creazione offre, perché è l'unico che Dio fa non con la parola, ma con la sostanza, con della materia. E questo fatto che l'uomo sia fatto di materia e di spirito abita tutta la tradizione ebraica. Quando mi si dice con un certo stupore ma come mai gli ebrei sono così legati ad esempio alle regole alimentari. Ebbene, perché per la tradizione ebraica il corpo e lo spirito, o meglio la materia di cui l'uomo è fatto e lo spirito sono pari, hanno lo stesso valore, la stessa dignità. E il segreto, ma anche la bellezza dell'umanità è di essere tutto questo insieme in un'unica identità e in questa identità ognuno si declina in un modo diverso. Adamo non è fatto di parola, è l'unica creatura che Dio foggia non dicendola ma facendola, però ancora una volta c'è una simmetria quasi perfetta in questo racconto perché Adamo non è fatto di parola ma ha la parola, possiede la parola. Quando vi dicevo che Adamo è frutto di un bisogno di una mancanza perché il testo stesso dice che non c'era ancora mentre tutto il resto viene creato non perché non ci fosse ancora ma per affermazione. Adamo è creato per negazione perché non c'è ma è frutto di una mancanza anche perché Dio gli affida immediatamente il compito di nominare le cose. Adamo non è fatto di parola però ha la parola e Dio lo chiama una sorta di esame cosmico che è quello di nominare le cose che ha davanti, le creature che ha davanti e Adamo lo fa perché ha innato in sé il dono della parola ma ancora una volta c'è una catena di una concatenazione di chiamate di ascolto di parole e di ascolto perché perché Dio lo chiama a dare il nome alle cose perché lui sa il Signore sa che come dice il testo non è bene che Adamo sia solo e quindi questo senso di nominare le cose è fatto perché lui trovi qualcuno e qui ripensiamo un attimo a questa creazione precedente dell'uomo bifronte che non si vede che in cui ogni ogni genere procede in una direzione opposta nel cammino della vita ebbene invece qui c'è bisogno che che l'uomo abbia qualcuno dice il testo ebraico che ne gedo cioè che gli stia di fronte ed è per questo che Dio gli mette di fronte tutti gli animali e gli dà il compito di nominarli e vedere se grazie a questa nominazione si crea l'incontro ancora una volta c'è c'è una necessità la necessità di accompagnare questa creatura che è l'uomo che è solo perché perché gli altri non sono soli perché gli altri sono o duali o tanti l'uomo è singolo singolo e quindi solo e ancora una volta vedete che che anche Eva che in questo capitolo 2 della Genesi ancora non si chiama Eva si chiama Isha che è il femminile di persona o diciamo di quella parola che in ebraico comunemente indica uomo Adamo è Adam nel senso che è quello Isha vuol dire persona è un pronome personale e qui la donna è uoma direi si potrebbe tradurre così è il femminile di persona ed è anche lei il frutto anzi più che mai il frutto di una mancanza di un'assenza ed è per questo che il signore addormenta Adamo ne estrae e il testo dice qualcosa dal fianco non è propriamente una costola o perlomeno è qualcosa di più generico e si trova e Adamo si risveglia e trova di fronte a sé che ne ghe do davanti a sé questa donna e così tutto comincia adesso io vorrei raccontarvi ancora il capitolo successivo che è fondamentale per tutti noi spero di non dilungarmi troppo no 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 vai Elena perfetto vado allora come vi dicevo la donna la prima donna si chiama Isha cioè uoma donna diventerà prenderà un nome cioè quel nome che tutti conosciamo che è Hava dopo la caduta al momento si chiama solo donna Hava vuol dire è difficile dire cosa vuole voglia dire questo nome bellissimo dal suono lieve ma di fatto è un participio presente del verbo essere è come se la donna fosse essente questo dovrebbe essere la traduzione del suo nome che ci porta alla funzione di essere presente nella storia attraverso la maternità e la fecondità vedremo come veniamo a quel capitolo della narrazione delle origini così così scomodo così complicato da accettare e anche così differenziante se vogliamo perché vi dico subito che nella tradizione ebraica non esiste il concetto di peccato originale Adamo e Deva non hanno colpe anzi vorrei dire quasi anzi hanno un merito ingombrante pesante ma che era imprescindibile sappiamo tutti cosa succede che Dio al capitolo 2 16 di Genesi impartisce un ordine che è il primo ordine primo dettato del mondo all'uomo gli dice puoi mangiare tutto quello che vuoi di questo giardino ma il frutto dell'albero della conoscenza non devi mangiarlo perché dice il testo se ne mangerai mot tamut morire morirai così è il testo ebraico è una è un divieto forte incisivo ma anche ripetuto in questa ripetizione della del verbo morire che è indicato sia all'infinito sia al futuro in questa in questo divieto sta forse il segreto di questo di questo imperativo negativo se vogliamo ambiguo ma perché ambiguo perché Adamo e Deva di lì a poco il frutto lo assaggiano ma come dice loro il serpente come dice a Deva il serpente mangialo vedrai che non morirai e così è cosa cosa vuol dire quel morire morirai vuol dire avrai cognizione della morte saprai che sei un essere morituro che la vita passa che che non sei qui per sempre questa cognizione della della morte se noi leggiamo il testo successivo con questa con questa con questa interpretazione del divieto forse le cose tornano o le vogliamo fare tornare noi stessi di più facciamo un breve riassunto di quello che è successo sino ad ora la parola è lo strumento del mondo tanto per Dio quanto per l'uomo Dio perché Dio crea con la parola l'uomo perché nasce con la parola e la usa abbiamo imparato che l'uomo è l'ultimo del creato l'unico fatto di seconda mano ma anche che è qualcosa di diverso da tutto il resto abbiamo imparato che l'uomo viene creato diversamente l'uomo e la donna vengono creati diversamente da tutto il resto per la percezione di una mancanza la sua assenza per lavorare ed essere al servizio della terra la sua assenza nel nell'essere colui che dà il nome alle cose e l'assenza di Eva nell'essere con lei che si pone di fronte all'uomo e con ciò non è che completa lui è che si completano a vicenda veniamo adesso a questo passo importante dell'assaggio del frutto proibito cercando di spiegarlo avendo in filigrana questa idea che il frutto dell'albero della conoscenza è il frutto della cognizione della propria morte e quindi anche della propria vita la donna tenendo conto di un presupposto non non irrilevante secondo me e cioè che quando Dio impartisce l'ordine anzi il divieto siamo a Genesi 2.16 di fatto la donna perlomeno la donna nella seconda versione della creazione è ancora da crearsi quindi teoricamente potrebbe avere anche in una prospettiva di peccato originale un briciolo di colpa in meno rispetto a quella che le si attribuisce comunemente in questa trasgressione ma poi vedremo come la trasgressione è qualcosa di necessario al creato all'uomo e alla storia ad ogni buon conto la donna a un certo punto possiamo immaginarla e dobbiamo immaginarla edotta di questo divieto ma decide di trasgredire e di assaggiarlo perché capisce che questo frutto come dice il testo e come dice il serpente ti renderà intelligenti l'ebraico è le askil che vuol proprio dire questo la forma verbale e il sistema verbale dell'ebraico prevede anche una forma causativa cioè un verbo che vuol dire essere intelligenti diventa far diventare intelligenti e questo fa il frutto intelligenti attenzione in un senso di illuminazione di capire cose che non sapevi prima non di di essere superiori ad altri per quantità di materia cerebrale infatti che cosa succede quando Adamo e Deva assaggiano questo frutto succede che dice il testo gli occhi di loro due si aprono il frutto illumina da luce fa vedere e cosa scoprono con gli occhi aperti che se erano aperti in quel momento vuol dire che prima in qualche modo erano chiusi non riuscivano a vedere qualcosa e questo qualcosa è la cognizione dell'essere morituri il frutto illumina questa conoscenza e loro in conseguenza di tutta di questa di questa potenzialità che prima era una potenzialità e poi diventa un'evidenza cioè il fatto di vedere cose che prima non vedevano scoprono di essere nudi ma cos'è questa nudità non è tanto una nudità fisica ma se torniamo a quel mot tamut morire morirete che non avviene perché sono più vivi che mai dopo aver assaggiato il frutto vedono cose che prima non vedevano ebbene è la consapevolezza di essere esposti alla morte quindi di essere fragili di essere caducchi di questa è la folgorazione che apre loro gli occhi si parla di vergogna normalmente quando quando si chiama in causa la foglia di fico per coprire le nudità ma l'ebraico forse ci vuol dire qualcosa d'altro ci parla di paura la fragilità che scoprono cioè quella di essere nudi è la paura è la paura della propria fragilità la paura di essere di passaggio su questo mondo perché la storia si fa attraverso il nascere il generare e il morire questa fragilità questa scoperta di fragilità li induce a fare che cosa a nascondersi Adamo e Deva prendono delle foglie di fico e se il frutto nel testo ebraico è un frutto generico infatti è stato interpretato variamente la mela l'uva anche il fico stesso ebbene le foglie con cui si coprono sono effettivamente foglie di fico e che cosa fanno vanno a nascondersi è l'istinto di protezione di fronte alla propria fragilità e alla morte che li induce a proteggere se stessi e nascondersi quindi prima ancora che da Dio e cioè da colui il cui dettato hanno trasgredito assacciando il frutto Adamo e Deva vanno a nascondersi per paura per la paura di se stessi di quello che sono e dove vanno a nascondersi dentro un albero dice il testo che cosa vuol dire dentro un albero dentro la natura questo ci deve insegnare che siamo veramente parte integrante di questa natura il primo istinto di paura dell'uomo lo porta a nascondersi dentro un albero tutto questo dovrebbe invitarci davvero avere un rispetto costante continuo imprescindibile nei confronti di questa natura che non è sempre madre non è sempre protettiva ma che è l'unico posto al mondo che abbiamo quando pensate che sia veramente molto tardi Daniele interrompimi arriviamo alla conclusione 5 minuti Elena ancora benissimo allora acceleriamo perché che cosa succede in questo momento cruciale col quale appunto arrivo alla conclusione succede una cosa paradossale e cioè che Dio cerca l'uomo allora questo Dio onnipotente che si è ritirato che ha fatto spazio al mondo che l'ha creato è colui che non trova l'uomo e che lo cerca l'immagine è bellissima c'è la voce di Dio che passeggia nella brezza del giardino dell'Eden questa voce femminile che passeggia e cerca Dio e cerca scusate l'uomo perché non lo trova ancora una volta è l'essenza di un bisogno di una mancanza Dio non trova l'uomo è paradossale pensare che la prima cosa da cercare al mondo sia dettata da un bisogno di Dio che non trova l'uomo in questo mondo che è ancora piccolo e poi questa voce fa una cosa ancora più strabiliante che quella di un Dio che cerca e non trova lo chiama e lo chiama con una parola cruciale io credo per tutti noi da quel momento in poi dice una parola brevissima in ebraico Aieha dove sei questa parola comincia con una Aleph se ci pensate è la prima domanda esplicita che viene al mondo la prima domanda che troviamo nel testo ebraico della Bibbia nella Bibbia l'ebraico non ha i punti interrogativi però ci sono queste particelle che indicano che dobbiamo metterli al fondo della frase e questa è una frase lapidaria perché è solo una parola brevissima che inizia con una Aleph ed è dove sei pensate al paradosso e anche alla bellezza di un Dio che cerca l'uomo perché non lo trova io credo che tutto tutto il racconto sacro sia racchiuso tra questo Aieha dove sei e quelli inneni che di lì a poco Abramo ripeterà nella sua parabola di vita inneni vuol dire eccomi ed è la risposta che Dio che l'uomo dà a Dio quando Dio lo cerca e l'uomo vuole farsi trovare ma è anche a volte la risposta che Dio dà all'uomo quando l'uomo cerca Dio e Dio vuole farsi trovare tutto starà chiuso fra quella domanda Aieha dove sei e inneni eccomi concludo dicendo che di fronte a questa domanda avviene un'altra cosa strabiliante e cioè che l'uomo risponde Adamo qui risponde e in fondo racconta la prima storia del mondo perché in quella risposta che Dio che Adamo dà a Dio e cioè sai ho mangiato il frutto mi sono vergognato mi sono nascosto c'è il primo passato del mondo in questo ed è anche la prima autobiografia in quel momento Adamo risponde usando il verbo al passato ma raccontando la propria storia di fatto inventando la storia di tutti noi e lo fa usando guardate non a caso Anochi quel pronome personale alla prima persona che vediamo qui per la prima volta nel mondo nel creato e nel racconto biblico inventa la parola io la usa racconta se stesso racconta la propria storia e naturalmente ci rimanda a quell'altro racconto di cui vi dicevo all'inizio là dove troviamo la Alef io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dall'Egitto è lo stesso pronome perché l'ebraico ha due pronomi personali uno più lieve e in questo è la forma enfatica di io è come un io ripetuto che per la prima volta al mondo usa Adamo raccontando se stesso e dicendoci che quella quella saggia del frutto non è una maledizione ma è la vera vocazione dell'uomo cioè quella di nascere creare morire e raccontare se stesso inventando il tempo passato e inventando quel pronome personale che è la cifra di tutti noi di ciascuno di noi a suo modo e ho finito bellissimo 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 vai Simona buonasera grazie grazie mille io ho preso parecchi appunti e credo che rileggerò tutto appena abbiamo finito per questi ultimi invece dieci minuti le chiedo se è possibile rispondere a queste due domande in così poco tempo purtroppo di rispondere appunto a Martino e Chiara che per prepararsi a questo incontro hanno pensato poi di farle queste due domande che adesso andiamo a sentire grazie grazie a lei le narrazioni ebraiche sgargano spesso da contesti di sofferenza e di resilienza in particolare Genesi 1 e Genesi 2 nascono durante l'esilio in Babilonia e di fatto ne respirano il background qual è la radice di speranza che percorre i racconti semitici e quale origine ha la sottile ironia che li avvolge i capitoli 1 e 2 della Genesi condensano al loro interno due tradizioni differenti che fanno riferimento a matrici e contesti diversi quali sono le linee di forza prettamente ebraiche che fanno di questo racconto una narrazione singolare e universale belle domande quanto tempo abbiamo in termini di settimane allora partirei dalla seconda e cioè qui la questione è delicata perché il testo della Bibbia ebraica in particolare della Torà del Pentateuco può essere letto in moltissimi modi ma sostanzialmente in due modi diversi il primo è quello di una lettura di fede che considera questo testo tanto la tradizione ebraica quando naturalmente quella di tutte e tre le religioni monoteistiche bibliche come un testo dettato da Dio al Sinai quindi intoccabile è sostanzialmente perfetto nella sua natura divina poi c'è una lettura di carattere filologico che che assimila il testo ebraico della Bibbia a un testo qualunque e ogni testo ha una sua storia adesso non per entrare nel in questo mio ultimo libro che è una storia d'amore al presente ma è una storia d'amore fra una paleografa è un filologo cioè una persona che si occupa di testi della storia dei testi come sono stati tramandati e la cifra del racconto è proprio una variante tipica anzi una corruttela tipica che è quella del salto di Memo Mem nella tradizione di un testo manoscritto un copista dimentica un pezzo del testo che era chiuso fra due parole uguali e il compito del filologo è risalire nell'albero genealogico del libro del testo e ricostruire l'archetipo allora se noi vediamo il testo ebraico della Torah come giustamente segnalava la seconda domanda come un testo come gli altri allora andiamo in cerca dell'archetipo pensando che ad esempio la creazione dell'uomo raccontata due volte è il frutto di una commistione di due tradizioni diverse che sono state accorpate nello stesso testo ovviamente la tradizione religiosa legge il testo e cerca invece di capire da questa anomalia del testo cioè di una ripetizione che ripetizione non è cerca di capire come mai Dio abbia integrato questi due racconti di fatto tutte e due le letture cosa fanno procedono dalle crepe del testo come dice Leonard Cohen come diceva purtroppo Leonard Cohen e la luce entra dalle crepe quindi sono proprio le anomalie del testo tanto per la tradizione filologica quanto per quella religiosa che ti danno lo spazio dell'interpretazione l'interpretazione e la decodifica del testo si apre là dove qualcosa non torna nel testo dove c'è una ripetizione dove c'è un apparente errore che per la tradizione religiosa non è un errore ma è qualcosa che ci aiuta a capire di più il testo per la tradizione filologica è invece una corruttela che serve a ricostruire il testo nella sua versione originale che poi l'archetipo sia più un'illusione che altro questo è un altro discorso per cui la tradizione religiosa interpreta questo testo come un unico un unico nella sua perfezione come diceva spinosa stesso il testo della rivelazione che noi abbiamo e che Dio ci ha dato è imperfetto a misura dell'imperfezione dell'uomo nella tradizione ebraica e qui vengo alla prima domanda questo testo dato da Dio che è la Torah è perfetto in un certo senso ma è imperfetto proprio perché è a misura dell'imperfezione dell'uomo e per quanto sia frutto di una rivelazione in realtà non è definitivo perché i rabbini ci spiegano che verrà un'altra Torah che avremo inciso nei cuori quando sarà arrivato il Messia per la tradizione ebraica e gli ebrei aspettano ancora il Messia e il mondo sarà qualcosa di molto diverso e anche la Torah sarà veramente perfetta questa è ambiguamente perfetta perché l'ha data Dio ma imperfetta perché è a misura di un mondo imperfetto di un uomo imperfetto quindi vengo alla prima domanda la questione della speranza è fondamentale per gli ebrei il tempo ha una dimensione circolare che è quella dell'anno che scorre sempre uguale a se stesso con le ricorrenze le feste i momenti che si ripetono ma è anche una percezione la percezione netta di un tempo lineare che ha un inizio che è questo di cui abbiamo chiacchierato questa sera è una fine che sarà l'avvento del Messia la creazione di un mondo tutto nuovo che sarà diverso che non possiamo che provare a immaginare ma che non riusciamo a immaginare proprio in ragione della nostra imperfezione della presenza del male nel mondo e tutto tutto ciò che ancora manca in questa realtà e quindi certamente la dimensione dell'attesa e della speranza la speranza è un elemento cruciale nella quotidianità dell'ebraismo sono fondamentali tanto nel tessuto di questo racconto quanto in tutta la storia degli ultimi 3.000 anni dell'umanità e del popolo ebraico in particolare magnifico Elena è stato un piacere ascoltarti tra l'altro io continuo a pensare che l'imperfezione questa attesa del mondo nuovo che nella tradizione ebraica coinciderà con l'arrivo del messia fa sì che appunto ogni ascolto sia implichi la domanda l'interrogazione io credo che la modernità dell'ebraismo stia anche nel custodire le domande noi spesso abbiamo fretta immediatamente di arrivare le risposte custodire le domande mi pare che sia un proprium dell'ebraismo che nasce appunto da quanto tu adesso stavi dicendo e quindi credo che hai mostrato come in quei tre capitoletti in realtà c'è dentro la storia del mondo c'è dentro la storia dell'uomo la storia che siamo noi il bisogno la mancanza il desiderio il limite la fragilità la scelta la responsabilità e da questo punto di vista appunto io credo che è davvero qualcosa un paradigma universale cioè è raccontato dentro una delle parole che hanno sedimentato una tradizione che è quella ebraica su cui poi se ne è stata quella cristiana ma in realtà ha un valore universale perché lì mentre tu parlavi io trovavo dentro le domande le inquietudine le fatiche dell'uomo d'oggi e quindi magnifico un magnifico grazie posso concludere con una frase di un autore che ho tanto amato e a cui continuo a volere un gran bene che è Amos Sos che diceva ma sì in fondo la questione delle religioni diverse e lui dice lo diceva sua nonna che problema c'è basta avere la pazienza di aspettare quando il messia verrà in terra se avevano ragione i cristiani dirà semplicemente ragazzi rieccomi qua sono tornati se invece scenderà e vuol dire che ciò vorrà dire che i cristiani avevano ragione se invece scenderà e dirà piacere sono il messia vuol dire che avevano ragione gli ebrei sarà la prima volta che scende fra di noi quindi evitiamo guerre conflitti contrasti basta avere la pazienza di aspettare grazie 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 Elena e ci vediamo in presenza promesso vero appena si potrà con molto piacere grazie grazie di cuore Elena grazie Elena l'eventale magnifica serata molto colta raffinata avete visto anche quanto raffinata interprete perché è anche raffinata traduttrice a me non resta che ringraziare Simona che sei di nuovo prestata di cuore la ringrazio anche per tutto il lavoro che fa per molte fedi e vorrei ricordarvi la diretta di domani sera domani sera alle 21 avremo con noi Roberto Sabio ragioneremo su come sia possibile immaginare una nuova idea di sviluppo mi pare che la pandemia ha messo in crisi questo modello si tratta di ripensarlo in che modo ne parleremo domani sera alle 21 in diretta e per chi vuole venerdì sera alle 21 Lucilla Giannoni per chi ha sottoscritto la CAR azioni che potete comunque fare se non l'aveste ancora fatta entrando nel sito che vedete in sovrimpressione alle 21 Lucilla Giannoni farà una conversazione notturna attorno al Magnifica davvero grazie di cuore a tutti e buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti